Io sono Giorgia e sono una dating coach e aiuto le donne ad attirare uomini di valore senza più attirare persone fredde e narcisiste. E in questo video ti voglio svelare quali sono degli errori che puoi evitare e cosa invece fare per evitare di attirare a te i narcisisti. E per farlo voglio partire da una storia, da una storia che è quella di una mia cliente e molto affezionata, che è anche un po' simile a una mia storia. Lei è una donna bellissima, è una persona super in gamba, super attiva, esplosiva, con una personalità veramente esplosiva e ha questa caratteristica di essere anche molto spirituale. Che cosa succede? Conosce una persona in chat, un uomo. Questo uomo però è molto lontano geograficamente da dove si trova lei. E tra i due inizia uno scambio di messaggi molto serrato, molto coinvolgente, molto appassionato. Lei che cosa decide di fare? Decide di andare a villeggiare in un paesino vicino a quello dove si trova lui. E che cosa succede quando si incontrano? Quando si incontrano è tutta un'apoteosi di emozioni, di dolcezza, di intesa, è come se due anime praticamente si riconoscono. Quindi non solo a livello, non c'è un'intesa solo a livello fisico, ma anche a livello proprio spirituale di connessione tra di loro. E infatti lei comincia comunque a inviarmi anche dei messaggi in cui mi confermava queste sensazioni che lei aveva durante appunto il tempo che avevano trascorso invece in chat. E che cosa succede poi giorni dopo? A un certo punto lui così per magia scompare. Lei ci rimane male ovviamente, inizia a insospettirsi, insomma a mandargli dei messaggi ai quali lui non legge e che lui non risponde, ai quali lui non risponderà. E praticamente il finale di questa storia, lo potete e lo puoi immaginare, è che lui praticamente si era quasi stufato della sua presenza e l'accusa anche di essere bisognosa, piccicosa, eccetera. Ora, da questa storia, siccome ne abbiamo parlato tanto poi con questa mia cliente, ho voluto fare questo video, proprio mi è uscito dal cuore, ho detto devo fare questo video per capire quali sono stati, diciamo, allora, premettiamo che niente viene per caso e niente è un errore, cioè qualsiasi esperienza tu abbia di incontri, di dating, dove tu comunque ci rimani un po' scottata o comunque dove l'uomo che tu stai frequentando non è quello che ti aspettavi che fosse, comunque non devi prendertela né con te stessa né con l'uomo che hai frequentato, sono semplicemente, partiamo dal presupposto che tutto è sempre un'avventura, tutto è sempre una scoperta e tutto, soprattutto, ci dà tantissimi insegnamenti, quindi partiamo da questo presupposto, ok? Allora, la prima cosa, diciamo, che sicuramente vogliamo evitare di fare durante i nostri incontri di dating e durante soprattutto la fase dei messaggi, quindi la fase in cui ci iniziamo a scambiare messaggi con questi uomini, è sicuramente quella di attribuire ai messaggi troppa importanza, cioè noi donne, quando iniziamo a messaggiare con un uomo, praticamente iniziamo a farci, sai, tanti castelli mentali, tanti film, oddio se mi ha scritto questa cosa, allora vuol dire questo, oddio mi sta dicendo questa cosa qui, allora sicuramente è un uomo che è così. il fatto è che, te lo dico perché l'ho sperimentato sulla mia pelle e anche l'hanno sperimentato davanti ai miei clienti, i messaggi purtroppo non sono la realtà, i messaggi sono messaggi, sono idee, sono cose che vengono dalla mente, ma la realtà è tutt'altro, quindi la prima cosa che sicuramente vuoi evitare di fare è quella di giudicare, di iniziare a farti delle idee su un uomo che stai frequentando soltanto per i messaggi che lui ti manda, ok? No, i messaggi non sono la realtà, veramente. No! Non attaccarti al ciò che tu scrivi, agli audio che ti manda, perché dal vivo potrebbe veramente essere tutt'altro, quindi per piacere considera questa cosa che ti sto dicendo, i messaggi non sono la realtà. Quello che consiglio di fare invece alle mie clienti è sempre quello per evitare di rimanere male, per evitare di iniziare a fare castelli per aria, di fare aspettative, che poi dopo io lo so come funziona, perché dentro noi donne poi iniziano a, ripeto, a crearsi delle fantasie troppo grosse, iniziamo a, tra l'altro quando c'è una forte connessione anche tramite i messaggi con un uomo, che cosa succede? Che iniziamo a smettere anche di frequentare altri uomini, perché ci fissiamo soltanto su quell'uomo. Diciamo no, è lui, già lo so, è lui, e invece no, e anche questa mia cliente me l'ha confermato. Mentre lui scriveva con lei, gli ha confessato, perché comunque era, evidentemente comunque era una persona che era, voleva essere sincera in un certo senso, e ha detto guarda io parallelamente a te sto sentendo anche un'altra donna, ma chissà che non si stava sentendo anche con altre donne. Questo è un appoggiamento che dobbiamo anche un po' fare nostro, quello di evitare di fissarci su un solo uomo soltanto perché ci ha stuzzicato particolarmente, soltanto perché tramite messaggio noi ci siamo fatti quell'idea, ma quella non è sicuramente la realtà, ma proprio per niente. Quindi fin quando tu non organizzi, o lui non organizza, perché sarebbe auspicabile che fosse lui a farlo, uno dei primi incontri, o i primi incontri, non ti fare nessuna idea, rimani nell'osservazione, rimani osservatrice di quello che avviene, non ti, lo so, magari dici oddio Giorgia, ma come faccio? È difficile evitare di coinvolgermi, invece ti dico che non è difficile, soprattutto se tu inizi a conoscere tanti uomini allo stesso tempo, ok? Poi ti farò un video apposta per farti capire come fare i dating in maniera da non attaccarti, in maniera da non soffrire, ok? Quindi in questa fase in cui comunque c'è la conoscenza, quindi nei primi mesi, io consiglio sempre di evitare di attaccarsi, soprattutto ad un solo uomo, ma conoscerne tanti contemporaneamente. Uno dei motivi poi per i quali tu attiri, perché tante volte sai, quando entriamo in un circolo vizioso, quando iniziamo a capire che lì fuori ce ne sono tanti di narcisisti, iniziamo a dire, sì ma perché io mi attiro tutti questi narcisisti? Allora innanzitutto non sono tutti narcisisti, nel senso che tutti noi abbiamo l'ego e di conseguenza tutti noi siamo un po' narcisi, noi donne anche lo siamo, gli uomini lo sono, ovviamente la differenza è il livello a cui tu arrivi, diciamo il livello di ego che viene fuori durante la conoscenza. Allora lì io capisco se una persona è narcisista o se è semplicemente un po' vanitoso oppure che gli piace magari mettersi un po' in mostra, però ci sono dei livelli, ok? E tutti comunque noi abbiamo questa parte narcisista. Quindi se tu ti stai chiedendo, sì ma perché le attiro tutti io, è sicuramente perché dentro di te c'è una parte bisognosa di qualcosa. Nel caso della mia cliente, il bisogno era di, era un bisogno di considerazione, di sentirsi considerata, ok? e anche di validazione delle sue azioni. Per esempio lei faceva delle cose e diciamo si innamorava ancora di più, si infatuava ancora di più di questa persona quando lui le diceva ah no ma questa cosa che fai è veramente buona, sai non ce ne sono tante persone che agiscono come te. quindi convalidazione per esempio del modo in cui uno gestisce i figli oppure convalidazione del modo in cui uno lavora, convalidazione del modo di amare, cioè ci sono tanti tipi di convalidazione. Nel caso della mia cliente era questo, c'erano tanti tipi di convalidazione che erano entrati in gioco. nel mio caso io avevo invece un bisogno forte di una persona accanto perché infatti mi ero attirata a questo narcisista perché non mi sapevo considerare come Giorgia single ma dovevo per forza avere una persona vicino altrimenti io non riuscivo a considerarmi come persona, non stavo bene da sola. Quindi uno dei motivi per cui tu attiri persone narcisiste è sicuramente un bisogno che hai. Quindi devi chiederti, ok, quale bisogno questa persona che ho di fronte vuole soddisfarmi? Se rispondi a questa domanda già inizi a fare una scrematura e a capire perché tu ti attiri questo tipo di persone. Poi il secondo motivo è perché te li attiri perché come dicevo prima hai basato il giudizio di questa persona soltanto sui messaggi che lui ti ha mandato in chat e di conseguenza si sa che all'inizio di una conoscenza ci si scambia complimenti, ci si fa complimenti a vicenda e tu sei bello e tu sei bello e tu di qua e tu di là e fai così e fai cosa quindi fa l'inizio di una conversazione soprattutto se la conoscenza avviene in chat tira fuori da noi questo lato narcisista che ha bisogno di essere pompato e quindi è normale che se tu fai per esempio le tue conoscenze sono sempre con persone lontane da te geograficamente con cui tu già sai che non avrai possibilità di incontrare questa persona a giorni regolari ma ci sarà una volta tanto oppure visto che dall'altro lato dell'Italia io avevo conosciuto questa persona proprio all'antipo di lui era all'antipo di dove stavo io e dentro di me è come se c'era una sorta di sicurezza quindi sapevo che l'avrei visto una volta tanto sapevo che non sarei riuscita tanto bene ad aprirmi con questa persona quindi il fatto di diciamo di di intraprendere una relazione con una persona soltanto via chat ok questa cosa qui è uno degli altri motivi per cui tu ti attiri solo a narcisisti perché non ci sarà mai una conoscenza vera e tu consciamente o inconsciamente questa cosa la sai e quindi sei tu che te le attiri praticamente mi ricordo è successo in particolare anche con un ragazzo che ho conosciuto e lui praticamente amava scrivermi mi scriveva tantissimo scriveva delle cose bellissime ma quando io praticamente gli chiedevo di uscire lui mi diceva sì sì poi dopo quando usciamo ne parliamo ok allora io gli dicevo vabbè allora quando ci vogliamo vedere questo sabato questa domenica questo weekend così e lui diceva no questo weekend c'ho da fare questo lunedì sono impegnato questo qua e praticamente io stavo lì ad aspettare che lui mi desse un giorno per vederci e avevo fatto l'errore di cui ti parlavo prima di mettermelo come un metterlo sul piedistallo quindi esisteva solo lui per me non stavo uscendo contemporaneamente con altri uomini ma l'avevo messo proprio sul sul piedistallo e di conseguenza io stavo lì come una baccalà ad aspettare che lui si liberasse dai suoi impegni e mi concedesse questo giorno fatidico per vederci che poi poteva essere uno ma l'altro quando poi ci sarebbe stato non lo so non lo so diciamo che ho fatto vedo fare ed è questo quando stiamo chattando appunto stiamo avendo una relazione tra virgolette via chat e a un certo punto questi uomini scompaiono non si fanno più vivi che cosa dobbiamo fare? devi scrivergli devi mandargli messaggi a raffica devi chiedergli oddio sei sparito sei stato inghiottito in un pozzo ti sto pensando oddio mi stai facendo preoccupare no niente di tutto questo semplicemente se non ti risponde non ti vuole rispondere perché i telefoni già lo sappiamo ce li abbiamo sempre in mano ma a meno che non è successo qualcosa di grave gli è caduto il telefone nella tazza del gabinetto l'hanno rapito in una foresta pluviale gli orangotan della foresta amazzonica oppure l'hanno schiaffeggiato e gli hanno fatto perdere i sensi a meno che non si siano verificate tutte queste cose non ci sono scuse perché se perdi il telefono puoi scrivermi su messenger se non c'è il telefono mi puoi scrivere su whatsapp web se ti interessa così tanto puoi addirittura chiamare un amico e l'amico mi manda il messaggio quindi non ti devi stare a preoccupare perché se non ti scrive vuol dire che non ti vuole scrivere e tu che cosa fai invece di stare a pensare oddio che sta a fare che non sta a fare si è reinghiottito non si è reinghiottito il pozzo devi semplicemente rifocalizzarti sulla tua vita sulle tue passioni sul rendere la tua vita illuminata illuminante divertente vai a ballare esci con le amiche ma non parlare di lui esci con altri uomini questa è la cosa migliore ti ripeto non avere mai un solo uomo con cui fai dating ma ne devi avere tanti con cui uscire di modo che tu non metterai mai nessuno sul piedistallo mai 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 perché? che succede? allora a volte allora se si tratta di ragazzi che finora non hanno mai fatto niente del genere nel senso non sono mai spariti è una cosa abbastanza normale gli uomini a volte hanno bisogno di rifugiarsi nelle loro caverne anche per avere il tempo di lavorare quello che stanno provando le loro emozioni quindi va bene se insomma non non ci scrivono non si fanno sentire per un paio di giorni se sono bravi ragazzi se sono costanti nel tempo e questa cosa qui dà anche a noi la possibilità di rifocalizzarci sulla nostra vita se invece è un uomo intermittente tipo lucette di Natale che lo fa sempre non gli devi scrivere niente non gli scrivi niente lo so non è facile perché anche a me è successo io stavo sempre col telefono in mano a vedere ma mi scrive non mi scrive ma chissà che sta facendo o di ogni messaggio che mi arrivava se non era lui praticamente se era tipo mia madre faceva che palle mia madre oppure se era una mia amica diceva no ma perché mi devi scrivere ma non mi scrivere adesso se mi scrive lui poi mi si intrecciano i messaggi insomma ero ossessionata dai suoi messaggi adesso ci posso anche chiedere sopra perché effettivamente è una cosa un po' non ridicola però se la guardi dall'esterno con un occhio più osservatore con un occhio più come dire oggettivo ti rendi conto che stai sprecando veramente il tuo tempo e che non lo meriti cioè questa cosa qua non te la meriti non ti meriti di far dipendere la tua felicità il tuo benessere il tuo valore da un tizio che nemmeno conosci ok che nemmeno conosci uno sconosciuto total unknown un tizio che può avere miliardi di ferite ma che le sa mascherare molto bene che però a te ti ha fatto credere la luna ti ha fatto vedere la luna e quindi tu ti ci sei impiastricciata quindi uno degli altri motivi non mi ricordo più se sono due sono tre per cui tu ti attiri narcisisti e perché continui a fomentare questa questa relazione tra virgolette potenziale malata tramite messaggi tramite insistenza devi sparire devi rifocalizzarti sulla tua splendida vita al massimo se proprio vuoi gli puoi mandare un messaggino ecco ti do una tips molto molto utile gli puoi mandare un messaggino con dei tre puntini un punto interrogativo e una faccina sorridente come per dire vai che fine hai fatto in questo video avrei voluto parlarti in maniera un po' più schematica e sistematica di quegli errori cose da fare da non fare poi mi sono resa conto che ho fatto un po' un mashup perché da tanto che non faccio i video e non ci sono più abituata quindi mi rimane da dirti soltanto l'ultima cosa da fare ok cioè se tu vedi che vi state scrivendo già da un po' di giorni e lui ancora non ti ha invitato ad uscire che cosa devi fare adesso potresti essere in grado di dirmelo tu cosa fare gli devi semplicemente dire ma allora questo caffè quando ce lo andiamo a prendere e da lì deve essere una sequenza di uscite che deve esserci un caffè e 100 giorni di chattate un caffè no lo puoi fare tu perché io non sono per quei coach che dicono no ma la donna non deve fare niente no la donna può fare ovviamente deve essere sempre una danza non devi mai esagerare perché l'interesse deve venire da ambo le parti quindi tu puoi buttare l'amo dici ma allora questo caffettino quando ce lo andiamo a prendere e vedere lui cosa risponde quindi trasformare subito quello che ti consiglio di fare per evitare di attirare narcisisti di trasformare subito le chat in qualcosa di reale concreto conoscenza dal vivo occhi negli occhi faccia a faccia odori senti se ti piace se non ti piace se puzza se c'hai tic se è pazzo solo così puoi conoscere veramente una persona ok adesso se ti è piaciuto questo video puoi lasciarmi un bel like lo puoi condividere con le tue amiche che magari hanno bisogno di sentirsi dire queste cose e e e ce ne sono tante di donne che hanno queste diciamo io per prima ovviamente non mi sto tirando indietro anzi questi video li sto facendo proprio perché sono cose che in primi sto sperimentato quindi sono consigli che ti do soprattutto sulla base della mia esperienza ok quindi ti ringrazio per essere stata con me ci sono anche altri video sul canale puoi guardare questo per esempio che ti è qui tu qui puoi iscriverti al mio canale instagram georgia love coach mi trovi anche su facebook come georgia pedrillo chiedimi l'amicizia e anche su tiktok ci vediamo al prossimo video muah ciao 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 Grazie.